Conoscere la Cannabis Light, il quadro normativo di riferimento e sapere effettuare un campionamento corretto. Questa in sintesi le attività previste dal protocollo d'intesa sottoscritto questa mattina a Teramo dal direttore generale dell'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise Nicola D'Alterrio e dal comandante della regione Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise generale di brigata Gian Piero Costantini. Il protocollo prevede una collaborazione finalizzata al monitoraggio del contenuto di THC nella canapa e nei prodotti della filiera agroalimentare derivati. Ma questo è un accordo molto importante anche se poi va a ratificare quello che già da tempo facciamo con l'istituto zooprofilattico di Teramo su varie attività. In particolare con questo accordo andiamo a definire la coltivazione della canapa da un punto di vista naturalmente agronomico, farmaceutico e non da un punto di vista di attività illecita come tutti pensano la famosa canapa light, tanto per dire. Quindi è per favorire questa filiera che ha un suo valore aggiunto, specialmente qua in Abruzzo, ha una sua capacità produttiva che quindi può dare reddito, fare reddito anche qua. Se naturalmente si fa la buona pratica e si fa un'attività aderente a quella che è la normativa comunitaria perché come ben sapete tutte queste attività hanno dei contributi. Quindi andiamo a valorizzare insieme all'istituto zooprofilattico di Teramo proprio questa filiera che ha un suo tornaconto ben preciso se sviluppato in un certo senso naturalmente. Quale sarà il ruolo dell'istituto zooprofilattico? Il ruolo dell'istituto zooprofilattico inizialmente è quello della formazione dei carabinieri forestali che sono incaricati di fare i prelievi sul campo di canapa per verificare il contenuto del CHT. È il primo protocollo del genere che si firma in Abruzzo? Sì, questo è il primo protocollo in assoluto. Devo ringraziare il generale Costantini che ci ha coinvolti. In questa settimana stiamo formando il primo nucleo di carabinieri anche dal Molise in realtà che faranno questa attività di controllo sul territorio. Qual è lo scopo ultimo di questa iniziativa? Lo scopo ultimo è garantire un prelievo, un conferimento dei campioni adeguato perché non è assolutamente banale. L'esito degli esami dipende strettamente anche dall'attività di prelievamento e poi quella di fare dei controlli di filiera sulla canapa in laboratorio. Grazie.